Buongiorno, sono Gianpaolo dalla Pasolini Auto di Gussago in provincia di Brescia. Oggi vi presento questa splendida ed esclusivissima BMW M2 manuale immatricolata nel febbraio 2018 con soli 6.600 km percorsi originalissimi e con una manutenzione già fatta presso officina BMW. Questa vettura monta il 6 cilindri in linea da 3 litri, sovralimentato, con la massima potenza di 370 cavalli. Si presenta in una splendida vernice bianca, ruote lega 19 pollici spazzolate e brunite, sensori di parcheggio posteriori, specchi abbattibili elettricamente. interni in pelle totale nera con impunture azzurre, naturalmente volante sportivo multifunzione. Abbiamo cruise control, sistema antisalto corsia e assistenza alla frenata di emergenza. ecco i 6.650 km, abbiamo il sistema di start and stop, navigazione satellitare cartografica, climatizzatore automatico bi-zona, sedili riscaldabili elettricamente, ecco il rarissimo cambio meccanico 6 rapporti M-Sport, sistema di settaggio e funzioni multimediali. l'auto è completamente intonsa, è disponibile in pronta consegna, vi aspetto Gussago presso il nostro autosalone Pasolini Auto per vederla, provarla ed eventualmente acquistarla. grazie grazie